Per me la Roma non può fare più di questo con una squadra che secondo me non è veramente all'altezza dell'Inter, all'altezza di altre squadre che sono in Serie A, almeno le prime 4-5. Io credo che uno dei primi imputati per questa Roma non sia Muregno ma sia Vinto, che ha portato giocatori che non sono guardabili per nessun motivo. Quando dicono anche altre squadre ci hanno infortunati, è vero, ci hanno ragione. Se io compro giocatori rotti non posso dire ma ce l'hanno tutti. No, noi abbiamo comprato i giarrotti. Capite la differenza? Ma ci riuscite in quei cervellacci da idioti che ci avete? Perciò come Pinto può rimanere alla Roma? Io non riesco a capirlo. Questa non partita che ha fatto la Roma è però la colpa oltre che di tutta la squadra e anche di Muregno che però accetta queste storie. Mettere una squadra così e dover dire le bugie. Quando ha detto che la Roma meritava il pareggio, è chiaro che è una bugia, no? Perciò lui è costretto a fare delle figure del cazzo, a dire le bugie, ma insomma io me ne sarei andato. La società è una società abbastanza ridicola. Quando Murigno si incavola che dice perché ci hanno messo domenica sera invece di metterci in Uedì, lo dovrebbe dire al presidente. Da forza politica non ce l'ha il Murigno, non ce l'ha Pinto. Il presidente nostro non esiste sotto questo punto di vista. Quando le cose vanno male, arbitra eccetera eccetera, sta in silenzio. Attaccano Lukaku e lui sta in silenzio. È come se la Roma fosse un'azienda minore dove lui non mette bocca perché tanto ci pensano gli altri.